E noi cambiamo argomento, torniamo ad occuparci dell'incidente sul lavoro alla Sevel di Atessa in cui ha perso la vita un operaio 28enne, martedì l'autopsia in attesa dell'aperizia tecnica disposta dalla procura di Lanciano. Celeste Acquafredda. Non si lavora martedì 7 gennaio in Sevel, giorno di riapertura dopo le festività. Resta fermo il primo turno ma ci sono buone probabilità che il blocco continui per altri giorni dopo il sequestro del reparto Lastratura dello stabilimento di Atessa dove è morto un addetto esterno alla manutenzione. Cristian Terilli, 28 anni, laziale, lascia due bimbi di 6 e 2 anni. Era dipendente di una ditta di Cassino. Stava smontando alcuni pezzi del macchinario che movimenta le fiancate del Ducato quando una lastra di alcuni quintali si è staccata e lo ha investito mentre era di spalle, schiacciandolo. I carabinieri della stazione di Atessa indagano su disposizione della procura di Lanciano. Il PM Serena Rosse ha fissato a martedì l'autopsia nell'ospedale di Chieti per poi affidare ai tecnici l'aperizia sul macchinario. Un interrogativo prevale su tutto. Esiste un sistema di sicurezza chiamato paracadute e un ombrello in acciaio che si apre quando si verificano rischi. Non si è aperto nella tragica circostanza. È andato in tilt o non era attivo? Un nodo che saranno le indagini a sciogliere come pure il dubbio inerente a una manovra azzardata durante la manutenzione. Rabbia tanta fra i lavoratori. Sgomento nei sindacalisti che lanciano un fermo appello sull'applicazione dei protocolli e delle norme di sicurezza. Andrea De Lutis, FIOM e CGL annuncia anche una riunione congiunta con le altre sigle. La riattivazione del tavolo fra Ispettorato del Lavoro, ASL e INAIL. Abbiamo difficoltà a sapere anche cosa sia realmente accaduto. Le RLS della FIOM hanno chiesto un incontro urgente alla Sevel già da ieri ma nonostante questo sia una prassi prevista, ad oggi Sevel non ha ancora convocato le RLS. Domenico Bologna, Fim Cisle, Nicola Manzi della Wilma. La sicurezza deve diventare prioritaria rispetto a tutte le altre questioni all'interno della fabbrica. Non si può morire nel 2020 in una multinazionale in questa maniera. Se vogliamo fermare questa scia di sangue, gli imprenditori devono fare dell'informazione, della prevenzione e della formazione il fondamento del rapporto di lavoro perché la vita e la salute sono al primo posto per tutti.